Siamo ancora qua, è il 3 giugno, siamo al cuore matto in questo bellissimo locale, in questa notte d'estate. Sono nell'angolo delle poesie, nel giardino estivo. Ho incontrato Stefania, ciao Stefania. Stiamo facendo delle citazioni perché questo angolo delle poesie è creato da questo nostro carissimo amico che si chiama Mario che gira con un libricino per il locale a raccontare delle piccole parti del suo libricino. Noi abbiamo preso un libro grande, grande, grande e abbiamo fatto scegliere ad ogni persona che è nel locale una citazione. Tu quale hai scelto? Allora, inizio. Mi domando perché si attribuisca tanto valore agli inizi difficili. Posso anche portare al successo, ma questo non significa che aiutino a raggiungerlo. È molto bella. Ne vuoi leggere un'altra? Ci sono persone così egocentriche che quando si innamorano trovano il modo di essere tutte prese dalla loro passione senza esserlo della persona che amano. Grazie, grazie Stefania. Veramente almeno un angolo di poesia. Salutiamo i telespettatori. Ciao! Andiamo in un altro angolo. Ciao!